Lo sapevi che Audrey Hepburn è stata in Italia? Ebbene sì, l'amatissima interprete di Sabrina e Colazione da Tiffany si stabilì a Roma negli anni 70 e ci visse per quasi 20 anni, ma il suo legame con la città eterna è ancora più antico. Risale addirittura agli anni 30, quando aveva 8 anni e veniva qui in Italia con la madre. Ho una foto di lei con sua madre al mare vicino Roma, racconta Luca Dotti, romano, figlio della Hepburn, nel libro Audrey, mia madre. Attraverso parole e fotografie ha svelato il lato più intimo della diva che per lui era solo una mamma, condividendo con il suo ancora sconfinato pubblico ricordi e aneddoti e parlando anche del suo rapporto con la città eterna. Roma è stata un po' la città del destino per Audrey Hepburn. Oltre al sole e al mare del litorale, nelle sue tante estati che ha trascorso qui da bambina, la capitale ha a dir poco battezzato quella che sarebbe poi divenuta una delle stelle più belle della storia del cinema. Aveva solo 23 anni ed era all'inizio della sua carriera quando nel 1953 si calò nei panni della ribelle principessa Anna e ci trasportò nelle sue avventure, in giro per una Roma assolata e bellissima, vera coprotagonista insieme a Gregory Peck di Vacanze Romane. Fu un successo straordinario per Audrey che vinse il premio Oscar e fece così il suo ingresso fulminio nell'Olimpo dei Grandi del Cinema Mondiale. E fu un successo anche per Roma, che di lì a poco avrebbe vissuto i fasti della cosiddetta Hollywood sul Tevere. Roma però non segnò solo il destino professionale dell'attrice, ma anche la sua vita di donna. Era l'estate del 68 quando quella che a tutti gli effetti era divenuta una star hollywoodiana incontra in vacanza un giovane psichiatra romano, Andrea Dotti. Lei si era lasciata con il primo marito, l'attore Mel Ferrer, da cui aveva avuto il figlio Sean. Lui, dieci anni meno di lei, era un uomo affascinante e amante delle donne. Si sposarono nel gennaio del 69 e misero su casa a Roma, dove nel 1970 nacque Luca. Il matrimonio con Dotti durò fino al 1980 e Audrey visse quegli anni romani prima in via Giulia, poi molto più a lungo ai Parioli, prendendosi una pausa dagli impegni lavorativi per godersi l'amore, la famiglia e la vita sotto-anonimato nella città che poi è diventata la sua città del destino. Mia madre sapeva mescolarsi alla gente e i romani avevano capito che lei voleva essere romana, che non voleva essere la star, ha raccontato Luca Dotti, descrivendo il bellissimo rapporto tra sua madre e la città. Mamma non guidava e adorava il fatto che a Roma si vivesse per strada, che ci fosse un quartiere dove passeggiare. E così Audrey Hepburn, icona intramontabile di fascino e femminilità, usciva per le vie del suo quartiere facendo tappa al bar, riempiendosi di buste per la spesa, portando i figli a passeggio e scambiando due chiacchiere con chi la incontrava. Lei stessa affermò di sé in quel periodo sono una casalinga romana, proprio come volevo essere, nonostante quello che ogni tanto si legge in giro, il mio matrimonio va a gonfie vele, osservare il mio figlio che cresce è meraviglioso. In più sono italiana in tutto e per tutto ormai, non mi sono mai sentita parte di Hollywood, e finalmente ho trovato un posto dove mi sento realmente a casa. E Roma e tutta l'Italia intera la ricorda tuttora con affetto e non l'ha mai dimenticata. Fatemi sapere cosa ne pensate e se conoscevate questa piccola ma grande curiosità sulla grande Audrey Hepburn. Io vi consiglio di iscrivervi al nostro canale YouTube, ciaccheazione, seguiteci anche su Facebook e Instagram, dove tutti i giorni raccontiamo storie, aneddoti, curiosità e notizie sul meraviglioso mondo del cinema e delle serie TV. Al prossimo video!